In Italia si susseguono le iniziative di solidarietà verso le popolazioni del centro Italia, colpite dal terremoto che mercoledì scorso ha violentamente scosso la terra nel Lazio e nelle Marche. In poche ore, infatti, sono giunte nelle zone terremotate quintali e quintali di generi di prima necessità, alimentari, vestiti e coperte, che utilizzeranno gli sfollati momentaneamente sistemati nelle tende montate dalla protezione civile. E dall'Isola d'Ischia giunge la richiesta avanzata da Gaetano Esposito al Vescovo Pietro Lagnese di devolvere ai terremotati la cifra stanziata per lo spettacolo dei fuochi periotecnici che si terranno nel corso degli imminenti festeggiamenti di San Giovanni Giuseppe della Croce. La proposta di Esposito è giunta durante la quarta puntata di Riscossa Popolare, la diretta streaming che Gennaro Savio tiene su Facebook ogni venerdì sera a partire dalle ore 22. Gennaro, ha scritto Gaetano Esposito durante la diretta, non si può chiedere al Vescovo se i soldi che sono stati chiesti alla popolazione ischitana per i fuochi artificiali di San Giovanni Giuseppe della Croce vengono dati alle popolazioni terremotate? Una proposta, quella avanzata dal capo oltre dei tifosi dell'Ischia Calcio degli anni 90, con cui, se ricevita, come si suole dire, si prenderebbero due fissioni con la fara. Infatti, oltre a poter inviare una consistenza offerta economica agli sfollati, che andrebbe ad aggiungersi alla colletta avviata nelle chiese proprio dalla diocesi ischitana, il cielo di Ischia, in segno di lutto e di rispetto per le centinaia di vittime provocate dalla scossa tellurica di tre giorni fa, non sarebbe sconquassato dai boati dei rumorosissimi botti. Così come accadrà a Rocchetta, nel Foggiano e a Lecce, dove il ricavato per l'acquisto dei fuochi artificiali sarà consegnato alle popolazioni che hanno subito la tragedia del terremoto. Attraverso questo nostro servizio giornalistico, giriamo direttamente al Vescovo Lanesi la richiesta di Gaetano Esposito, sperando che anche Ischia possa seguire il saggio esempio di Lecce e Rocchetta.